Da giorni se ne parlava ma adesso la notizia è diventata ufficiale. Pasquale Ferraro ha lasciato l'Audax Cervinara. Il tecnico, visti numerosi ritardi accumulati in sede di mercato, ha deciso di dare il ben servito alla dirigenza bianca-azzurra, chiudendo anzitempo la propria avventura sulla panchina del cervo. Domani sera ci sarà l'assemblea dei soci e l'auspicio è che il tecnico possa tornare sui suoi passi, anche se al momento sembra quasi impossibile un ripensamento. Qualora non dovesse tornare indietro, il nome più gettonato è quello di Salvio Casale. In case clanese spunta un nuovo nome dopo quelli di Belmonte e Facchino. Su taccuino del presidente Antonio Casale è finito anche Francesco Sgambati, ex allenatore di Baiano e San Marzano. Il Gesualdo, che si è salvato nel campionato di promozione, continua a sondare il terreno per trovare il sostituto di Alfonso Pugliese. Nel mirino del club Granata ci sarebbe adesso Gerardo Natale, allenatore di provata esperienza, pronto a tornare in Irpigna dopo i grandi risultati ottenuti in Basilicata.